ciao a tutti ragazzi oggi vi propongo un gameplay decisamente diverso dal solito infatti abbandono il mio amato bolt action per divertirmi un po' con il mio nuovo dmf ne approfitto per ringraziare pubblicamente i ragazzi di psionic upgrades per avermi preparato un full custom strepitone che presto recensirò sul mio canale per questa giocata abbiamo scelto blaster park di alessandria un'arena costruita per noi appassionati di airsoft una struttura studiata alla perfezione 6.000 metri quadri di pura adrenalina troverete il link diretto in descrizione e ora buon divertimento a 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 bene ragazzi se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video